Il canele privato di Vernazzano di Tuoro, convenzionato con gli otto comuni del Trasimeno, avrebbe dovuto ridurre il numero di cani presenti a 20 entro il 31 marzo 2009 in base alla convenzione del 28 gennaio 2008 per il trasferimento altrove dei cani di proprietà dei comuni. In realtà, in modo misterioso, dopo un'ispezione dei NAS, i cani presenti risultano aumentati vertiginosamente, costringendo il comune di Tuoro a prendere sott'occhio la situazione. Ci chiediamo perché questo aumento, quando da parte della titolare del canile, sostenuta economicamente da organizzazioni tedesche, si rivolgono appelli in Germania di aiuto. Due mesi fa, dopo una segnalazione, le telecamere di Pianeta Umbria hanno dato un'occhiata al canile e, come vedete da queste immagini, furgoni e auto tedesche si muovono all'interno di esso. In effetti abbiamo scoperto che da molti canili dell'Umbria si prelevano periodicamente carichi di cani che hanno come destinazione la Germania. E non solo in Umbria, ma si parla di tutta la zona del Mediterraneo, centinaia di migliaia di cani, forse milioni, convogliati verso la Germania, si dice per essere adottati. Ma non ci sono i cani in Germania? A quest'ora, se facciamo i conti, in realtà dovrebbero esserci più cani che persone. Perché il canile di Tuoro, dove sono stati trovati tanti cani senza microchip e di altri si sono perse le tracce, nonostante queste partenze è riuscito ad aumentare i suoi cani? A quale fine pianeta Umbria continuerà a seguire gli sviluppi di questa vicenda?